Eccolo qua! E che cos'è? Hai un nuovo messaggio! Ti ha capito? Eh, ho capito si! Mica sono scemo! Hai un nuovo messaggio! Eh si! Si! Hai un nuovo messaggio! Ma dove fai affari tu? Si o no? Ma baffa il culo, va! Ma signorina, molto dico io! C'è un messaggio! Che palla questo! Ma baffa il culo! Ma che dici a me? Oh! Forse ne hai capito! C'è un messaggio! Che mola, agite per favore! Col cazzo! Ma che si risponde così? Ma che cazzo glielevo di scusi? Non so, mozzarella! Bravo! Molto bravo! Di mortasci, tu vedi qua a sviolinare la tua moglie Marchettara!